Il fatto che ci sia una ripresa non significa che dobbiamo rilassarci perché comunque si tratta di piccoli numeri e dobbiamo pensare alle priorità sia dal punto di vista della crescita potenziale. Cosa bisogna fare per la crescita potenziale? Credo che pensare all'imprenditorialità sia importante, pensare agli investimenti, pensare sia alla frontiera della crescita nel nord Italia ma anche io credo che l'Italia abbia un problema che è quello del sud che in questi anni di crisi ha continuato una divergenza, un declino economico che va affrontato con creatività.